E' di una vittoria e una sconfitta il bilancio all'esordio di Baby Crusaders nel Ball One romano di Flag Football Under 13. A neanche due mesi dalla nascita, i piccoli atleti si sono subito regalati una inattesa e storica vittoria contro i padroni di casa della Leggio XIII, la società ospitante. Inutile nascondere la soddisfazione per i tecnici Sergio Andrea Meloni, Tim Tobin e Riccardo Pili e del presidente Emanuele Garzia e della dirigente Giulia Congia, che, alle Totti Sporting Club, hanno assistito alle due gare contro i pari età romani. Il flag football è una disciplina molto simile al football americano. Si usa la stessa pala ovale, ma non esiste contatto fisico tra i giocatori. Il placaggio, infatti, è sostituito dalla presa di una bandierina, flag, attaccata alla cintura degli atleti. Dire che siamo soddisfatti è limitativo perché, ha dichiarato il presidente Garzia, ci siamo resi conto di come i nostri under 13 migliorassero a vista d'occhio al cospetto di avversari che praticano da almeno tre anni. Prima hanno commesso ingenuamente degli errori macrosuopici datati da emozione e inesperienza, ma a mano che giocavano hanno appreso ulteriori dinamiche del flag, centrando in pieno l'obiettivo. Complimenti a tutti.